Vi chiedo scusa, oggi dovevo uscire la quinta puntata e invece è uscito un lavoro per me. La Dinamo mi ha chiamato sul set di Beautiful e io ho accettato perché avevo bisogno di soldi per continuare il viaggio. Potrei chiedere a Brookeridge che fine ha fatto Tim Burton, l'americano che voleva comprarsi il Bari. Ma quali stanno a mangiare adesso? E la storia di Tim Burton ormai è una storia vecchia. E' quella di oggi invece che mi sconvolge. Tre ultras arrestati, pure il parigino. Non posso stare qua sotto il sole, devo capire, devo ripartire. Ci vediamo martedì. Grazie a tutti.